Sei sempre stata la sorella più forte e coraggiosa. Mi mancherai ogni giorno, ogni momento, ogni notte. Così Ali Haider Abbas ha commemorato sua sorella, Samana Abbas, la giovane pakistana uccisa a Novellara, Reggio Emilia, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. Ali lo ha fatto incidere insieme a una farfalla sulla stele posta accanto alla lapide di Samana, realizzata dal comune di Novellara. Sopra sono indicate solo la data di nascita e quella di morte di questa ragazza appena diciottenne che ha pagato con la vita il suo desiderio di indipendenza. Dopo tre anni, però, Samana può finalmente riposare in pace. Di recente, infatti, al termine delle indagini e del processo di primo grado, sono stati celebrati i suoi funerali in forma privata proprio per la sicurezza di Ali, che fu il primo a indicare i suoi stessi genitori e i suoi familiari dopo la scomparsa della sorella. Insieme al fratello di Saman, alle esequie hanno partecipato una decina di persone e il sindaco di Novellara, Elena Carletti. Il rito funebre è stato ufficiato da Yassin Lafram, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia. La salma è stata sepolta poco distante dalla tomba del cantante Augusto D'Aolio, il fondatore dei Nomadi, famosi per la canzone Io Vagabondo. Adesso tutti potranno andare a rendere omaggio a questa giovane donna coraggiosa, uccisa perché desiderava essere libera. Ha dichiarato la sindaca Carletti. Pensiamo sia importante che Saman riposi nel cimitero di Novellara. Questa vicenda ha lasciato una ferita profonda nella nostra comunità. Novellara è accogliente e qui tante comunità di origini diverse convivono armoniosamente da tanti anni. Mai avevamo visto tanta violenza. Dopo il funerale, in serata, si è tenuta anche una partecipata fiaccolata in suo onore. Per la morte di Saman, in primo grado sono stati condannati all'ergastolo il padre, Shabbar Abbas, la madre Nazia Shaheen, attualmente latitante. Secondo i giudici, Shabbar è considerato il mandante del delitto. Sua moglie, consapevole delle sue intenzioni, non ha agito per fermarlo e addirittura avrebbe accompagnato Saman dai suoi aguzzini. Nessuno dei due è ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio che, secondo gli inquirenti, è stato commesso dallo zio di Saman, Danish Asnain, e da due cugini della diciottenne, Ikram Ijatz e Nomanulak Nomanulak. Danish è stato condannato a 14 anni di carcere, mentre gli altri due sono stati assolti. Il padre di Saman continua a professarsi innocente. Shabbar Abbas ha dichiarato ai giudici Signori giudici, i genitori non pensano mai male per i figli. Anche io non ho mai pensato il male per mia figlia. Le volevo bene, ho sempre lavorato in campagna, sotto le serre. Non sono mai andato a rubare. Ho sentito tante parole false. Non è vero che sono una persona ricca. Non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan. Non è vero che sono andato a casa di Sakib, il fidanzato di Saman, a minacciarlo. Anche questo è falso, come quelli che dicono ha ammazzato la figlia ed è scappato via. Anche io voglio liberarmi. Mia figlia è morta. La mia famiglia è finita. Io sto dicendo tutta la verità. Ma se lui fosse veramente innocente, come sostiene, chi ha ucciso Saman e perché? Le prove raccolte sembrano in realtà incastrarlo. Il giorno prima della sentenza, il 18 dicembre scorso, Saman avrebbe compiuto 21 anni, ma sarà per sempre una giovane di 18 anni. Lei si faceva chiamare Italian Girl e desiderava vivere la sua vita senza subire le imposizioni della tradizione del suo paese d'origine. La sua famiglia, al contrario, non accettava di avere in casa una giovane ribelle che si truccava, non indossava il velo, vestiva abiti aderenti e si era innamorata di un ragazzo non scelto dai suoi genitori.